Partita dell'anno per i neocampioni d'Italia della Juventus che affrontano allo Juventus Stadium di Torino il Real Madrid per l'andata della semifinale di Champions League 2015. Si gioca alle ore 20.45 in uno stadio gremito con diretta TV in chiaro su Canale 5. Una sfida chiave nella partita è quella tra Tevez e Cristiano Ronaldo che nella classifica dei marcatori della Champions League di questa stagione sono rispettivamente a sei reti per il bianco-nero e a otto gol invece per il pallone d'oro madrileno. La formazione probabile della Juventus allenata da Massimiliano Allegri, Buffon, Lichesteiner, Bonucci, Chiellini, Evral, Vidal, Pirlo, Marchisio, Pereira, Tevez, Llorente. La formazione del Real Madrid diretta da Carletto Ancellotti, Casillas, Carvacial, Pepe Varane, Marcelo, Sergio Ramos, Cross, Isco, James Bale e Cristiano Ronaldo. Sfida italiana dunque quella delle panchine tra Allegri e Ancellotti. Il cammino della Juventus dagli ottavi di finale vede il superamento del Borussia Dortmund negli ottavi e il sofferto quarto con i francesi del Monaco. Il Real Madrid invece dopo aver superato lo Shaq 04 negli ottavi di finale ha duramente lottato per avere la meglio nel derby con l'Atletico nel precedente turno. La gara di ritorno tra Real e Juventus si giocherà il 13 maggio a Madrid, mentre ricordiamo che l'altra semifinale si gioca tra Barcellona e Bayern Monaco, andata il 6 maggio e ritorno a Monaco il 12. La bilancia dei pronostici pende a favore del Real Madrid. La SNAI quota la vittoria degli Juventini 2,85 volte alla posta, mentre il pareggio a 3,30 e la vittoria del Real Madrid fissato a 2,50. Nell'altra semifinale di andata i pronostici invece sono nettamente a favore del Barcellona.